Pierucci Agricoltura è la tua agraria di fiducia. Nei nostri punti vendita di Quarrata e Montale puoi trovare i migliori prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio e l'allevamento e una curata scelta di prodotti alimentari tipici locali, una gamma completa di sementi, fertilizzanti, fitofarmaci e mezzi tecnici specifici per enologia, olivicoltura e florovivaismo. Il nostro personale specializzato è in grado di assistere al meglio tutti i clienti, dal lobbista all'azienda agricola.